Signor Governatore, la ringraziamo molto per averci accolto in un periodo che poi è molto impegnato. Volevo cominciare col chiederle di evocare la personalità di Tommaso Padua Schioppa, poi in una casa che conosce bene, che fu sua per tanti anni, la Banca d'Italia, se non sbaglio quando lei arrivò in banca lui era già da più anni direttore generale incaricato degli studi? No, io sono arrivato in banca dagli Stati Uniti di Michelin 74 e Tommaso Padua Schioppa era capo dell'ufficio analisi monetaria, quindi non aveva neanche il grado di capo ufficio ancora, ci sono molti gradi oltre al capo ufficio, si diventa dirigente dopo, lui era ancora, però era già una persona molto ascoltata dal governatore dell'epoca che era Guido Carli, dal direttore generale che era Paolo Baffi e aveva una capacità di leadership anche nei confronti dei suoi colleghi, di coloro che lavorano con lui, ma anche delle persone un po' più distanti che era notevole, era una persona molto concreta e poi era una persona con grande capacità di visione nella quale metteva tutto il suo background, che era del background federalista europeo, ma anche di uomo rispettoso delle istituzioni, non era in realtà, pur essendo rispettoso delle istituzioni, schiavo di esse o legato allo status quo, era anzi una persona animata da uno spirito riformatore ampio, anche se all'epoca per giovani come noi sembrava una persona con idee in qualche modo abbastanza consolidate di conservazione, lui ha sempre criticato il 68 per esempio, come un periodo in cui forse ci è stato un po' di spreco di risorse umane anche intellettuali, però era un uomo molto attento alle istituzioni, anzi se potessi ricordare una sua frase che non era sua, era di un filosofo svizzero che si chiamava Miel, per come la ricordo io, lui diceva l'esperienza si forma negli individui ma solo le istituzioni trasformano questa esperienza in saggezza, trasmettendola e mantenendola, credo che questo fosse il suo obiettivo, aveva moltissime iniziative, prendeva iniziative in molti campi e cercava credo col lavoro di gruppo in realtà di portare a termine il maggior numero di queste accettando eventuali frenate, resistenze, ma sempre cercando di lasciare il seme per un'iniziativa successiva. Può dirci qualcosa magari dell'economista che era perché è stato formato da una scuola molto rigorosa che era quella di Modigliani, come veniva visto negli ambienti di Banca Italia? Beh, bisogna ricordare che il servizio studio della Banca d'Italia è ancora un centro di ricerca, analisi economica molto importante. All'epoca l'Italia era in una condizione di instabilità, instabilità finanziaria, instabilità reale, molte rigidità. Lui scrisse con Modigliani questi lavori su un'economia indicizzata al 100% e più e quindi era un grande protagonista della politica economica di quel tempo, che potremmo dire oggi di offerta, cioè di rimozione delle condizioni di freno, instabilità e inflazione, lavorando dal lato del mercato del lavoro, dal lato della capacità di avere dei vincoli, anche per esempio vincoli attraverso un cambio più apprezzato di quello che sarebbe probabilmente necessario in equilibrio per spingere alla ricerca di ambienti di produttività. In questo, all'epoca ovviamente c'era ancora molto dominante una forte eredità chienesiana, quindi di attenzione al lato della domanda, che lui non negava perché Modigliani tra l'altro, il suo maestro, faceva parte di questo tipo di cultura, che è una cultura che chiaramente ha una tradizione importante in Banca d'Italia, però cercava di aggiungere questa dimensione dell'offerta. In quell'epoca questi lavori furono visti come lavori, diciamo, un po' di resistenza nei confronti di un movimento sindacale che guardava al salario come variabile indipendente o altri slogan di questo tipo, ma in realtà credo che quei lavori furono importanti per dare con chiarezza il limite, il vincolo che un'economia così indicizzata costituiva per l'uscita dell'Italia da questo periodo di instabilità. Bisogna anche dire che erano momenti molto difficili sul piano sociale, sul piano politico, c'era il terrorismo, e la cosa che però lui più, ciò che più era chiamato a svolgere, erano compiti che attenevano alla buona conduzione delle operazioni monetarie. È un po' troppo parlare di politica monetaria in quel periodo perché era un periodo di forti interventi di natura amministrativa. Vi erano i vincoli di portafoglio sulle banche, vi erano i controlli diretti del credito, vi erano i controlli dei movimenti di capitale, vi erano le aste del tesoro che vedevano la banca centrale come acquirente residuale di ciò che non era venduto sul mercato. Quello che fece Padoschioppa credo lo descrisse abbastanza bene nel suo articolo nel volume In Onore di Modigliani, che fu scritto a metà anni Ottanta, non ricordo bene, nel quale citava le parole di un altro prima Nobel che era James Tobin e diceva che per cambiare l'economia, per incidere sull'economia si può procedere attraverso le regole di politica economica o di politica monetaria e attraverso i cambiamenti delle strutture economiche. Io credo che il suo contributo sia stato fondamentale nel cercare di dotare questo Paese di infrastrutture finanziarie e monetarie in grado di consentire la trasmissione degli impulsi di politica monetaria nel passaggio dalla politica di natura amministrativa a quella di controlli indiretti di operazioni di mercato aperto, dotandolo di una serie di innovazioni. Il modo di emettere aste del debito pubblico e quindi di avere la Banca d'Italia che partecipando poteva muovere i tassi di interesse, il rendere la Banca d'Italia indipendente dal tesoro con il divorzio non più acquirente residuale dei titoli invenduti, il dotare il sistema di strumenti finanziari non soltanto di buoni del tesoro a breve termine ma di strumenti più lunghi, i titoli di Stato pluriannali, i certificati creduti del tesoro, il creare infrastrutture vere e proprie come il mercato telematico dei titoli di Stato che ancora esiste, l'MTS, o il mercato elettronico dei depositi interbancari, le MID, o i mercati futures, options sui titoli di Stato che furono istituiti in quegli anni. Questo è stato un contributo fondamentale. Quando noi abbiamo avuto la crisi del 92-93, una crisi finanziaria e valutaria molto molto difficile, con una grande svalutazione, apprezzamento della lira, temevamo veramente di non riuscire più a riprendere l'inflazione e la politica monetaria riuscì a svolgersi beneficiando in modo straordinario di tutte queste infrastrutture finanziarie e monetarie di cui l'Italia si era dotato. Io credo che questo abbia visto Tommaso Podoschioppa in prima linea. Questo per la politica monetaria, ma lui diceva che la politica monetaria non è soltanto la creazione di moneta o l'obiettivo di tenere i prezzi stabili, ma è anche quello di consentire una circolazione monetaria efficiente, tale da agire in poco tempo nel regolare le transazioni monetarie con il sistema dei pagamenti e il suo lavoro è stato fondamentale per l'Italia e per l'Europa. E questa spinta, chiamiamola riformista, che in fondo consisteva nel far leva sull'integrazione europea per direi quasi costringere il Paese ad accettare delle riforme, non si scontrava con delle resistenze all'interno della banca? Sicuramente io credo che bisogna sottolineare due cose. Primo, Podoschioppa veramente credeva nell'Europa. L'Europa non era soltanto uno strumento per costringere l'Italia a fare dei cambiamenti. Secondo, era anche convinto che l'Italia avesse potenzialità enorme, che aveva manifestato pienamente dal dopoguerra al momento in cui cominciamo a lavorare. Io credo che lui venne in banca alla fine degli anni Sessanta, io sono venuto 4-5 anni dopo. In quel periodo cominciò a sorgere la crisi di questo Paese, che era una crisi da un lato di sviluppo, dall'altro di, sfortunatamente, inviluppo, cioè di arretramento forse politico e forse anche ideale, dopo la fine della grande motivazione che aveva spinto a progredire per uscire fuori da un'eredità molto, molto difficile. E nel costringere il Paese ad adeguarsi, ad aggiustarsi, sicuramente lui vedeva l'importanza di vincoli, vincolo del cambio, l'ho detto prima, il vincolo dato dalla rigidità, dall'attenzione al bilancio pubblico. Su questo sicuramente c'erano scambi. Io stesso in qualche occasione ho avuto, ma molti, grandi discussioni. Non era chiaro che costringendo un Paese a vivere con un cambio sovrastimato, il Paese riuscisse a fare lo sforzo, le imprese riuscissero a fare gli investimenti per accrescere la produttività e ridurre i costi e consentire attraverso questo il miglioramento della capacità competitiva. Era uno stimolo, era un vincolo, ma bisognava accompagnarlo da altre cose. Non era certo che con l'indipendenza tra moneta e bilancio pubblico, il bilancio pubblico improvvisamente sarebbe diventato virtuoso, infatti non è diventato virtuoso. Al ridursi dell'inflazione, legata anche a un cambio più apprezzato, non ha corrisposto una riduzione del disavanzo pubblico perché la tassa di inflazione non è stata sostituita da una riduzione di spesa o da un aumento di altre imposte e abbiamo avuto un debito che è esploso. Quindi su questo c'era molta discussione, però io credo che lui veramente pensasse che questa attenzione alla compatibilità tra le grandezze, all'evitare gli squilibri, a innovare attraverso il rispetto di vincoli, di bilancio e di costo, alla fine attraverso il mercato, attraverso l'iniziativa privata, avrebbe dato dei risultati. Negli ultimi anni era più attento a quelli che potremmo dire i fallimenti del mercato. Negli anni forse della maturità era molto attento ai fallimenti dello Stato. Le due le ha sempre viste come due momenti sui quali la via va in qualche modo perseguita con una certa difficoltà, ma è abbastanza chiaro che in ultimi tempi avesse ben visto come, nonostante tutte le sue iniziative sul piano della regolamentazione anche del sistema bancario, nonostante l'attenzione a una politica di regole e di fatto il sistema privato non si era autoregolato, era piuttosto instabile. Come però in questa casa si era sempre pensato la stabilità monetaria di per sé era poca cosa rispetto alla necessità di perseguire una stabilità finanziaria che non discendeva automaticamente dai comportamenti di tutti gli agenti economici costretti da un sistema di regole, di istituzioni ben definito, perché molte volte le regole sono importanti ma i comportamenti sono ancora più importanti. Su questo lui ha avuto dei ruoli anche in termini di vigilanza, anche in termini di… perché è stato Basilea, il Presidente del Comitato di Basilea è stato molto attento a definire i vari momenti di copertura dei rischi nei quali incorrono le istituzioni creditizie, i rischi di credito, i rischi di mercato, i rischi operativi e a costruire quindi un sistema per affrontare un'instabilità, possibile instabilità o possibili fallimenti delle istituzioni finanziarie private. Negli ultimi tempi credo che con molta forza abbia visto la necessità di criticare la veduta corta di chi opera sui mercati e contemporaneamente definire delle regole e delle istituzioni in grado di non essere catturate da coloro che devono regolare. Perchè quell'impulso direi di modernizzazione, di istituzionalizzazione, di costruzione di meccanismi di regolazione, lui lo ebbe non solo a livello nazionale ma altrettanto a livello europeo in cui fu, dicono, grande artefice per esempio del rinnovamento del pensiero all'interno dei servizi economici della Commissione europea, appunto con quella maggiore apertura, maggiore attenzione nei confronti della politica dell'offerta, col suo ruolo centrale nel Comitato dell'ONU, italiano con le sue ultime riflessioni sulla necessità di uno sviluppo della regolazione bancaria a livello europeo, insomma c'era una grande continuità, una notevole continuità e se poi posso aggiungere un elemento, la cosa che mi colpisce è che non sono tanti gli italiani dei quali si possa dire che abbiano avuto un impatto notevole sul corso degli eventi a livello europeo e lui fa parte di quel gruppo. Credo che sia vero, credo che lui giudicasse negli ultimi tempi, ma già lo aveva ben visto alla fine anni 90, il percorso dell'Unione Europea, un percorso incompiuto. È chiaro che Tommaso Padaschioppa veniva da una tradizione che era molto europea, Trieste, prima della fine della guerra, quindi aveva vissuto, anche se molto giovane, questo dramma di conflitti, è cresciuto quindi in un ambiente direi federalista in cui vi era un obiettivo di fare costituire un'Europa unita contro il conflitto per la pace. L'attribuzione del premio Nobel lo avrebbe visto chiaramente molto molto colpito positivamente, ma in questo percorso che chiaramente vedeva un percorso complesso, non lineare, la unificazione monetaria era solo una piccola parte. Se uno va a vedere l'acronimo di unificazione monetaria vede che in realtà c'è una E in mezzo, UEM. Quella E uno immagina che sia un'unificazione europea, invece è economica. Economica è più che moneta, quindi la moneta era una parte, poi c'era la componente del mercato unico europeo, il single market, il mercato interno. Sulle due lui diede un contributo molto importante, ma anche quando fu fatta l'Unione monetaria, lui disse che non è abbastanza, non è completato. C'è sempre stato, diceva, un conflitto in Europa tra ciò che è economico e ciò che è politico, tra ciò che è un traguardo tecnocratico e ciò che è un traguardo ideale, un traguardo di unità anche sociale e politica, tra ciò che è il confederalismo e il federalismo, il funzionalismo di Monet e il costituzionalismo di Spinelli, insomma aveva delle basi profonde sulla politica dell'Europa. La sua era, io credo, veramente una visione volta a migliorare lo Stato, da dove era il paese, da dove era nato, migliorare il funzionamento dell'istituzionale e poi economico e politico del paese nel quale lui più si sentiva di vivere, cioè l'Europa. Nel frattempo aveva anche fatto una scelta, direi, audace, accettando l'invito di Romano Prodi a scendere in campo politico, perché in fondo è vero che c'erano già stati precedenti di eminenti ministri scelti negli ambienti dei Banca Italia, pensiamo naturalmente a Ciampi, ma questo era nell'ambito di un governo cosiddetto tecnico, mentre la scelta di Padova Schioppa avveniva in un contesto complesso con una spaccatura molto netta fra maggioranza e opposizione e una maggioranza poi estremamente esigua. All'interno di Banca Italia come veniva vista questa scelta sua, che in fondo era un salto, e lo diceva lui stesso, per me è un mestiere completamente nuovo? Devo dire che io ho parlato molto con Tommaso nei mesi precedenti della sua accettazione di questo incarico, e parlato anche perché, come con me, ha parlato anche con altri, era alla ricerca di formarsi un quadro il più approfondito possibile della situazione e di ciò che andava fatto, e contemporaneamente però mentre cercava di formarsi questo quadro, di aggiornare questa sua conoscenza dopo un lungo periodo in cui si era occupato di altro, si era occupato di moneta europea, si era occupato di questioni internazionali, finanziarie internazionali, nell'ambito delle sue responsabilità nella Banca Italia europea. In questo periodo lui cercava appunto di aggiornare le conoscenze e comprendere meglio le necessità che questo paese aveva, ma cercava anche di rispondere all'invito di Prodi di partecipare e credo che ci siano stati dei mesi prima che prendesse questa decisione. Quando la presa ancora non si erano svolte le elezioni, sembrava che la coalizione Prodi avrebbe avuto un margine più ampio di quello che poi alla fine ha avuto e quindi una stabilità maggiore per il governo per mettere in atto queste politiche di risanamento, perché poi quello era l'obiettivo in un momento in cui ancora l'economia globale sembrava evolvere in modo stabile, che è consistente con queste grandi novità dei paesi emergenti, con la forza anche dell'economia americana. E in questa discussione, sicuramente ha parlato con molti di noi, la Banca d'Italia lo vedeva ormai come un uomo delle istituzioni che era entrato nella politica. Ma la stessa cosa vale per questo governo, io non credo ai governi tecnici di per sé, in realtà alla fine un governo è un governo politico. Lui aveva una chiara dimensione politica in quel governo e discuteva di politica, pur non essendo eletto. La differenza è tra se si è eletto o non si è eletto. In un sistema come il nostro, in realtà il Parlamento è composto da persone elette dal popolo che poi votano fiducia a chi deve e chi prende decisioni a livello esecutivo. Non è unico in questo tipo di struttura, anche se per noi è molto atipica. Perché in realtà i ministri della maggior parte del governo che voto questa Repubblica sono ministri che hanno avuto dei voti dagli elettori. perché lui non lo aveva e di questo era molto consapevole. Però una cosa che Tommaso ha sempre sottolineato viene prima la politica e poi la tecnica. Questo lo ha molto segnato da giovane e lo ha utilizzato anche nella sua maturità. Il suo giudizio sulla persona è che è più una persona con delle vedute politiche molto chiare e poi naturalmente una padronanza delle difficoltà tecniche. Non è un tecnico che viene chiamato a farsi della politica un po' casuale. Devo dire anzi, Tommaso Pascoppa non era un professore. In realtà si è creato anche conflitti con il mondo accademico. Aveva una dote e la dote era quella di usare l'economia, la teoria economica, nella costruzione di politica economica, nella revisione istituzionale. Ma aveva anche una persona dotata di ironia e dotata di un po' di malizia direi. era anche molto severo nei confronti del mondo accademico. Quando il mondo accademico usciva con visioni semplicistiche, con visioni superficiali. o meglio, quando non applicava le sue conoscenze, le conoscenze sviluppate nella ricerca, nell'analisi, per dare un contributo, un contributo pratico, un contributo che potesse essere utilizzato per il bene comune. Credo che ognuno ha difetti e qualità. Pascoppa aveva una qualità notevole di motivare le persone, di spingerle a mettere tutto loro stesse dietro dei progetti e contemporaneamente però era molto critico, era molto attento ai dettagli, era instancabile come persona. Sembrava dietro questo forse poco flessibile, perché chiaramente andava avanti come un treno, si dice in italiano. Ma in realtà era molto più soggetto al dubbio di quanto si pensi. Forse non amava trasmettere il dubbio per paura che questo rendesse più difficile il raggiungimento dell'obiettivo. Ultima domanda, evocava la sua ironia, forse in mente qualche esempio, qualche episodio particolare? Prima di tutto, una dote che aveva era quella di dare ai suoi amici, ai suoi collaboratori delle indicazioni di lettura, di musica e anche a volte lo strumento fisico, il disco, il libro, e che ne so, i libri favoriti, Monet, Spinelli, questi erano classici. Però, insieme a quello, aveva sempre un piccolo libro che io ebbe molto presto, che io credo che abbia continuato a dare spesso. È un libro di un autore italiano che si chiama Achille Campanile e si chiama Manuale di conversazione. Il titolo è interessante, ma è un libro di grande, grande satira ironica contro i luoghi comuni. Credo che in questo fosse, veramente, si interrogasse proprio sul luogo comune come riuscire a superarlo. Credo che fosse un po' notato di quello. Contemporaneamente l'abbiamo visto. Le volte in cui lui ha cercato di essere un po' ironico in pubblico non ha avuto successo. Ha detto che le tasse sono bellissime, ma voleva dire molte altre cose. Voleva dire che con le entrate che lo Stato riesce a avere si riesce a soddisfare bisogni pubblici che sono necessari per tutti. Garantire l'istruzione pubblica, la sanità pubblica, costruire le strade. Voleva dire quindi che è bello contribuire alla comunità e il modo in cui riusciva a comunicarlo. Oppure quando un'altra espressione, quando disse che insomma i ragazzi bisogna che a un certo punto uscissero di casa. Usò un termine che adesso è diventato un termine utilizzato anche in modi diversi. Bamboccioni che voleva dire sostanzialmente guardate siete voi stessi che vi dovete ribellare. Mentre invece sembrava una connotazione di uno stato diciamo di scelta. Mentre invece era la consapevolezza che vi era una ingiustizia nei confronti dei giovani alla quale gli anziani non ebbero mai posto rimedio e loro stessi dovevano muoversi. Quindi era nel comunicare, era un grande comunicatore per le persone colte, per i politici, per chi deve prendere decisioni. Non si era esercitato molto nella comunicazione di massa. Con i suoi collaboratori, i suoi amici aveva sempre una battuta attenta. Spesso una battuta derivata da queste letture un po' fuori genere che non sono sempre proprio degli economisti. Bene, non mi rimane che ringraziarla per questa conversazione e per la sua disponibilità. Grazie mille.